Questo è il Natale con Sky Online TV Box. Sky Online TV Box trasforma il tuo Natale. Lo porti a casa, lo colleghi alla tua TV e a internet, ti guardi subito gli show, le serie TV più attese, i film che vedi prima di tutti. Il Natale è più divertente se regali Sky Online TV Box. Vai su skyonline.it o nei migliori negozi di elettronica. Sky Online TV Box.